Sindaco, la fibra ultraveloce rientra in un'ottica di una città sempre più modernizzata sia per i cittadini che per le imprese. Sì, è un'opportunità che diamo grazie a questa sinergia con Team di portare a casa di ogni cittadino appunto la fibra ultraveloce. Parte del nostro territorio è già infrastrutturato, con questo intervento di circa un milione e mezzo arriviamo a casa di tutti, quindi diamo sia ai cittadini che alle imprese la possibilità di connettersi alla fibra e quindi di essere competitivi anche nel mondo del lavoro. Due fasce di ristori per i commercianti con procedure tempistiche facilitate servono per dimostrare che l'amministrazione non è indifferente ai disagi che stanno causando il lavoro in piazza. Sì, stiamo dettagliando un attimo le procedure capendo anche le entità economiche che questo tipo di intervento dovrà prevedere per l'anno 2021 e 2022, quindi è un processo che richiede ancora qualche settimana di lavoro, poi incontreremo i commercianti, ne daremo comunicazione, ma come già fatto anche per le attività di Barbisano poi la procedura una volta determinata sarà molto snella nel conferire i contributi. Il rinnovamento di piazza Balbi è sia ambizioso ma se si riuscisse a finire in anticipo sarebbe un grande traguardo? Noi lavoriamo per questo, è un intervento che parte da dei presupposti di voler rendere sempre più accessibile non solo le attività ma i luoghi del nostro paese, parte da un studio fatto su tutto il comune che ha individuato delle priorità. Alcuni interventi li abbiamo già fatti, questa è una continuazione importante. Ovviamente si tratta di una superficie molto estesa che nel suo complesso prevede un tempo di cantiere di otto mesi, però quello che forse non si è ancora ben inteso è che progressivamente, man mano che le varie parti della piazza saranno finite, veramente verranno rese accessibili, quindi già nel mese di dicembre, tempo permettendo, avremo una bella sorpresa.